Sono la dottoressa Anna Merusi, dialoga nutrizionista, diplomata in medicina anti-aging e medicina metabolica funzionale. Da diversi anni ormai collaboro con il dottor Spattini nel suo centro di medicina funzionale anti-aging a Parma. In questo centro come prima visita effettuiamo un check up sia dal punto di vista anti-aging funzionale e anche motorio in cui forniamo al paziente una dieta personalizzata, integrazione personalizzata, eventuali terapie anche se personalizzate così come anche l'attività fisica. All'interno di questo check up vengono effettuati una serie di test tra cui anche l'est drive che utilizziamo ormai da diversi anni. L'est drive come test ci aiuta a supportare la diagnosi dell'eventuale problematica del paziente che consideriamo a 360 gradi per cui andando, integrando anche con gli altri test e il test stesso andando a valutare una serie di fattori epigenetici ci danno proprio un'idea della persona in tutte le sue diverse sfaccettature. In questo senso l'obiettivo appunto della medicina funzionale è quello di andare a curare la causa della disfunzione eventuale e non solo il sintomo. ovviamente nel nostro centro, nel centro occupandoci anche di sportivi agonistici e non, utilizziamo anche il test training che ci permette di aumentare la performance sportiva del soggetto, del nostro paziente. Quindi per avere maggiori informazioni su questo test utilissimo per avere appunto una panoramica a 360 gradi di tutte le problematiche che una persona può avere potete andare sul sito cellwellbeingitalia.it e se appunto siete interessati a effettuare anche un check up funzionale potete consultare anche il sito del dottor Spattini www.massimospattini.it in cui troverete tutte le informazioni per il check up, tra cui anche il test S-Drive. perché va dire un'esrisino con un'escrizione. Mammaos brackets.